Partiti a Pordenone, i lavori per trasformare le case di via Prata-Valle-Noncello in polo di aggregazione e servizi per il quartiere. Il recupero delle case, da anni in stato di abbandono, rientra nel piano di rilancio degli immobili comunali voluto dal sindaco Ciriani. Appena insediati abbiamo fatto un censimento dalle proprietà comunali che erano in condizioni di abbandono o di degrado. Abbiamo scoperto con sorpresa che erano numerosi gli immobili completamente trascurati. Quindi uno dei compiti dell'amministrazione pubblica è quello invece di mettere a frutto gli immobili che ha a disposizione e di poterli rendere disponibili per la comunità. Abbiamo quindi individuato il finanziamento, adesso partiranno i lavori e quindi il quartiere di Valle-Noncello avrà una struttura al servizio della comunità stessa, un luogo di ritrovo, di socializzazione e soprattutto un immobile pubblico che non degrada ma che al contrario contribuisce all'abbellimento di Valle-Noncello. I lavori dureranno circa nove mesi. A primavera 2021 il nuovo centro, progettato dallo studio MPTEC, ospiterà ufficio Nagraf e CAF, vigile di quartiere, assistente sociale e consultorio familiare. Ci sarà poi un centro polifunzionale e altri ambienti a disposizione di abitanti, associazioni e attività del quartiere, dagli incontri pubblici al dopo scuola. Previsto anche l'alloggio per un custode che vigilerà sulla struttura.